Manuele Tiberi, confermato sindaco a Colledara, quali sono le prime impressioni? È stato un ottimo risultato, abbiamo lavorato tantissimo, ovviamente il terzo mandato ha sempre le sue difficoltà, ma sono contento. Ripartiamo dai 30 milioni di euro che abbiamo approvato nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi continuiamo a lavorare per il nostro territorio. Grazie a tutta la cittadinanza di Colledara soprattutto per la partecipazione, perché quando le elezioni sono sentite vuol dire che intanto il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, che è quello di interessare la cittadinanza, cosa che oggi non è semplice. Noi abbiamo fatto sempre la solita nostra campagna elettorale basata sulle idee, su quello che è stato fatto, su quello che vogliamo fare. Di là purtroppo pochi temi e molti attacchi. Colledara soprattutto ha bisogno di credere in se stesso, noi possiamo diventare il comune veramente trainante della Valle Siciliana, quindi noi come amministrazione ci crediamo e vogliamo che anche i cittadini ci credano.